Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna, sulla variante di Valico, si segnalano 4 km di coda per un veicolo fermo in avaria al km 11.400, tra Badia e il Bigo con la variante di Valico La Quercia. Siamo sul versante Emiliano, spostandoci in A12 in direzione Rosignano, 2 km di coda e attratti per lavori tra Sarzana e Carrara. Per lo stesso motivo, 4 km di coda e attratti tra Massa e l'allacciamento con raccordo Lucca-Viareggio, sempre in direzione Rosignano. Sulla Fipili, 1 km di coda per lavori tra Empoli ed Empoli-Ovest in direzione Livorno. Sempre verso Livorno, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Ed è tutto, buon viaggio!